Adesso è il momento del CEO Summit, io invito a salire sul palco Davide Passero, Alleanza Assicurazioni, Massimiliano Caradonna, Decra Group, Tommaso Mansutti, Davide Celli, Indra, Ermanno Canali, Canali. Benvenuti, diamo il via al CEO Summit, evoluzione digitale e mercato assicurativo, quali prospettive per il futuro? Io partirei da Davide Passero, Alleanza Assicurazioni, perché la premessa può essere un po' questa, uno dei principali fattori che sta determinando proprio, poi lo dico a tutti perché la premessa vale un po' per tutti, poi la declineremo un po' a seconda delle vostre specialità, diciamo così, che sta determinando proprio il cambiamento del mercato assicurativo e il processo di digitalizzazione che vede proprio il largo utilizzo di dispositivi mobile, con ovviamente un cambio di passo ovviamente che segue l'evoluzione dei tempi, però anche ovviamente di conseguenza la nascita di nuove esigenze da parte dei clienti, che naturalmente le compagnie devono conoscere, devono essere pronte a soddisfare. Per quanto riguarda Alleanza Assicurazioni, così qui andiamo nelle specificità, ha completato il più grande programma di digitalizzazione di una compagnia assicurativa in Europa. A me piacerebbe subito mettere un po' sul piatto della bilancia i pro e i contro, come si suol dire, cioè da una parte i vantaggi che sicuramente la digitalizzazione ha portato e poi eventualmente se ci sono dei rischi e come si è pronti a parare gli eventuali colpi. Buonasera a tutti, noi stiamo attraversando questo momento di grosso cambiamento verso il digitale che sta impattando tutte le industrie e anche quella assicurativa direi con un'onda che arriva un po' dopo forse altri settori che sono stati impattati molto prima, penso a quello dei media tanto per intenderci, ma tutto sommato anche quello delle banche. Allora, il tema della digitalizzazione non è un tema di strumenti digitali, è un tema di cambio di mindset e cioè noi abbiamo persone che lavorano nel mondo assicurativo e ai quali dobbiamo, come dire, stimolare l'adozione di nuovi comportamenti e l'adozione di nuovi comportamenti è complicatissima, complicatissima, noi abbiamo gente che ha fatto il maniscalco negli ultimi 50 anni, comincia a vedere le prime automobili che circolano e dobbiamo convincerli, fra virgolette, che il maniscalco, come dire, non ha futuro e bisogna imparare a gestire magari il cambio gomme. Quindi questo è il cuore del tema del digitale, che non è un tema di toolset, di strumenti, è un tema di testa, che è molto più complicato, perché la gente per cambiare deve avere un forte perché. Dopodiché sembra tutto complicatissimo tutto questo e poi l'altro ieri sono andato in Cattolica a fare, mi hanno chiesto di fare una lecture agli studenti di primo anno di economia, il professore di organizzazione ed era un intervento appunto sul change management, sul cambiamento, sul digitale e quant'altro e lui mi ha detto una cosa che mi ha fortemente fatto pensare, mi ha detto tu vieni, parla di come si gestisce il cambiamento in un'azienda, ma stai attento perché se a loro gli spieghi che hai delle persone che vanno a casa di un cliente con un tablet e gli fanno fare una firma digitale, per loro è normale e quindi non riesci a far capire cosa vuol dire cambiare. Questa è la sfida più difficile, no? È un tema. E come si supera questo? No, e quindi c'è un tema che non ci sarà nessuna gloria nel aver fatto la trasformazione digitale, ci sarà fallimento per chi l'avrà fatta troppo tardi, ci sarà qualche vantaggio, noi speriamo perché l'abbiamo iniziata da tempo, ci sarà qualche vantaggio magari per chi si è mosso prima, però nel fare questa trasformazione non c'è gloria se non il fatto dello stato di necessità. La gente cambia se ha un grosso perché, quando il grosso perché è la sopravvivenza vuol dire che è troppo tardi, quindi l'invito a tutti a farlo quanto prima possibile. Bene, questo è un ottimo consiglio, grazie, grazie mille a Davide Passero. Passerei il microfono a Massimiliano Caradonna per parlare della gestione dei sinistri e delle frode RC auto che, insomma, quando si parla di questi temi diventano cruciali due parole essenziali che io mi sono proprio appuntata, profilazione e prevenzione. Se io dovessi chiederle come si può arrivare a una vera e propria prevenzione in real time tra telematica e connettività, cosa mi risponderebbe? Beh, intanto buonasera a tutti. Allora, il termine profilazione, come già anticipato quest'oggi, è un termine da utilizzare con molta cautela. Profilazione vuol dire più che profilazione delle persone, profilazione del contesto, quindi profilazione di tutto quello che è un comportamento, una situazione che si associa a quello che è il comportamento della persona. Tutte le compagnie assicurative ci insegnano che anticipare questi fenomeni può accadere solo ed esclusivamente in una fase di underwriting, quindi di sottoscrizione di un contratto nella fase iniziale e lì la prevenzione può avere sicuramente un successo. A valle del processo solo e se una organizzazione, un player strutturato, organizzato con un reparto nutrito altamente specializzato, mi riferisco all'antifrode, mi riferisco a strumenti che possano intercettare questo tipo di problematiche, quali per esempio noi in Decra utilizziamo uno strumento che analizza il tono della voce nell'interlocuzione con la parte assicurata, piuttosto che avere una rete per esempio di legali alla quale noi abbiamo chiesto alla nostra rete di assumere una certificazione di competenza perché riteniamo che rispondere a certi standard diventa importante. Se sommiamo questi elementi riteniamo che la somma di questi elementi possa da un lato prevenire e quindi garantire un'eccellenza e la possibilità di poter dare un valore aggiunto ai nostri clienti e ai nostri partner. Dall'altra parte supportiamo nella fase iniziale le compagnie assicurative perché è lì che va individuato il fenomeno, è lì che va analizzato perché a valle potrebbe diventare troppo tardi. Ok, bene. Un quadro sicuramente completo anche da questo punto di vista. Mansutti, microfono a lei per tornare a parlare insomma del digitale. Abbiamo già aperto con la premessa fatta prima da Davide Passero. Cerchiamo di andare un po' più nel concreto e di dire come stanno cambiando in qualche modo le scelte di acquisto con il digitale e soprattutto quali servizi il digitale potrà abilitare in futuro. Cioè l'offerta assicurativa come cambierà, se cambierà ce lo dirà lei, quali strade prenderà? Noi abbiamo una visione duplice, da un lato una maggiore efficienza nei processi e se un neolaureato dovesse entrare nel nostro mondo e vedere la carta che gira e tutto quello che c'è attorno alla linea efficienza diciamo nel settore assicurativo con una piccola esperienza in un settore più efficiente sarebbe veramente sorpreso. In realtà ogni volta che un agente, un broker fa una polizza a un cliente gli da fastidio, gli manda una polizza a casa e il cliente deve firmarla e restituirla. dove oggi quasi mai nessuno va in posta. Quindi dico una cosa evidentemente banale, da un lato c'è un'inefficienza, dall'altro la tecnologia ovunque la vediamo che ci aiuta, ci avvicina e da un empowerment del consumatore che da solo sceglie e si costruisce il suo prodotto. Ecco noi pensiamo che ci sia necessità effettivamente di cambiare la proposta assicurativa dando questo potere alla persona e su questo abbiamo fatto una ricerca con la sapienza molto interessante che dimostra sostanzialmente che la necessità di permettere al cliente di conoscere meglio le coperture assicurative. Noi spesso pensiamo che tutti conoscano il nostro mondo e quindi parliamo nel nostro linguaggio. In realtà abbiamo visto che è necessario proprio cambiare la forma di come ci proponiamo ai clienti. Quindi una maggiore responsabilità al cliente che però corrisponde alla maggiore conoscenza, quindi anche una maggiore sicurezza rispetto al prodotto a cui ci si rivolge. Esatto, su questo stiamo facendo adesso un investimento notevole su una piattaforma nuova dove mettiamo insieme artisti, psicologi e assicuratori proprio per creare una diversità, una nuova forma di comunicazione verso le persone che poi divengono clienti. Bene. Davide Celli, allora parlando di digitale, ecco lì c'è il microfono. Digitale significa ovviamente, questa è una premessa molto banale, migliaia di dati a disposizione. Quanti, migliaia di più, quanti potranno essere? Anche miliardi. Ecco appunto, infatti io ho volutamente dato un numero in difetto. E però appunto, peggio ancora, perché la mia domanda è questa, spesso però questi dati, tantissimi, non vengono sfruttati in maniera adeguata. Quindi dobbiamo capire come sfruttare, no? Perché poi si parlava per esempio, non so se le due cose possono andare di pari passo, però responsabilizzare maggiormente chi non conosce ancora un prodotto affinché lo conosca meglio, no? Quindi automaticamente conoscere anche i dati che abbiamo a nostra disposizione per usarli nel giusto modo. Altrimenti è un po' come avere un patrimonio e non saperlo sfruttare nel migliore dei modi. Quindi l'intelligenza artificiale come può aiutare in questo processo le compagnie assicurative? Sì, l'intelligenza artificiale ormai è una tecnologia matura. Parlando poi di intelligenza artificiale, è facile poi considerarla insieme ai big data, insieme al cloud, quindi al blockchain. Quindi separare i vari concetti poi rischia di essere limitativo. Per esempio ha un'applicazione molto interessante nello sviluppo di modelli legati alla determinazione del rischio e quindi del pricing dei prodotti. Questo grazie all'arricchimento del patrimonio informativo classico con informazioni arrivanti dai sensori IoT, per esempio in auto, in casa, dai dispositivi indossabili, gli smartwatch che stanno andando tanto di moda negli ultimi anni, dal mobile, dai social network anche, che è una fonte ancora poco utilizzata da questo punto di vista. Però avere tanti dati bisogna poi riuscire a sfruttarli in maniera opportuna. Su questo aiuta molto l'intelligenza artificiale, quindi consente di elaborare una mole importante di dati, ma consente anche di identificare dei pattern, quindi dei modelli, delle relazioni tra i vari dati per arrivare a una conclusione. Questo è il grande vantaggio dell'intelligenza artificiale rispetto ad altri metodi che sono limitati. Quindi intelligenza artificiale, big data, più volumi di dati hanno, migliori sono i risultati che ottengono. Per esempio passiamo da una valutazione statica del rischio della persona, basata sull'età anagrafica, sul peso e poco altro, a invece identificare dei modelli di comportamento in auto, per esempio un guidatore prudente, un guidatore aggressivo, un guidatore che conduce una vita sana, quindi che fa sport, che non fa attività pericolose, quindi andare a fare un giro in bici è diverso da andare a arrampicarsi. Quindi tutte queste... C'è una maggiore valutazione del rischio sulla base delle caratteristiche che vengono studiate al meglio. Una valutazione accurata del rischio e questo è importante poi perché determina il pricing corrispondente. Ci sono start-up che stanno fondando il loro successo proprio su l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per essere aggressivi ma limitando il rischio. Ottimo, grazie. Canali, Ermanno Canali, così andiamo a conclusione di questo CEO Summit parlando del mondo della comunicazione e del marketing, cosa può insegnare al mondo assicurativo e proprio a questa complessa trasformazione digitale? Perché comunque come tutti i cambiamenti l'abbiamo sentito, per questo mi piaceva tenerlo in conclusione, questo suo intervento, quando appunto si parla di cambiamenti c'è sempre un po' di resistenza, chiaramente. Per ogni cambiamento è una grande resistenza. Ho sentito alcune cose molto interessanti che vanno nella direzione di volere essere diversi senza farci carico di quello che è questa trasformazione in chiave di successo, in chiave di grande notizia. La trasformazione è un fatto naturale che avviene da secoli e è una trasformazione che viene accompagnata da strumenti. Oggi il digitale, tutto ciò che avviene in rete, è certamente uno degli elementi primari che accompagnano questa trasformazione. La comunicazione e il marketing, o il marketing che ha la comunicazione, vanno al di là di quanto ho sentito che è finalizzato a, da una parte, la costruzione di un prodotto che vada a soddisfare una serie di necessità, dall'altra una lettura del consumatore in modo da creare politiche commerciali che vadano a soddisfare questo consumatore. Abbiamo sentito un interessante intervento sull'utilizzo dei big data come elemento e strumento di analisi del mio consumatore. Bene tutto questo, ma a un certo punto io debbo informare da una parte, anche perché l'assicurazione è un prodotto estremamente complesso, ma debbo anche comunicare, perché io debbo scegliere un prodotto piuttosto che un altro. Molta similitudine con questo aspetto, io lo faccio, ed è una delle caratteristiche della mia struttura, con i centri commerciali, che sono di fatti dei luoghi dove io devo portare gente, pur non avendo il cliente, perché il centro commerciale ovviamente non emette uno scontrino, non fa una vendita, ma rappresentano un insieme di attività. Un po' come un'assicurazione, rappresentano un insieme di polizze, un insieme di offerte che vanno a soddisfare diverse esigenze. Quello che a mio avviso però dobbiamo capire è che spesso si dice, questo mercato ha la necessità di questo tipo di informazione e comunicazione, quest'altro mercato ha la necessità, noi siamo abituati a fare questo, il mio cliente è abituato ad ascoltare o a vedere questo. Io penso che oggi debba essere destrutturato questo tipo di approccio, perché gli strumenti che abbiamo a disposizione, soprattutto in rete, hanno cambiato il modello di comunicazione. Un tempo era solo una comunicazione che da una mittente arrivava a un ricevente, oggi chiunque può dire ciò che vuole nella rete, può condizionare e può determinare delle scelte. Il controllo di questa conversazione, di questa dialetica deve essere l'elemento fondante, debba intercettare la comunicazione, attraverso i big data, attraverso i strumenti, attraverso la piattaforma, attraverso tutto quello che oggi ci dà e debba comunque governarlo in chiave emotiva. Non mi è più solo sufficiente parlare di numeri, che sono un fatto importantissimo, ma abbastanza crudo, abbastanza strato, se a questo non vado ad aggiungere quelli che sono i comportamenti, ma anche l'approccio emotivo a una questione piuttosto che ad un'altra. Ottimo, facciamo un applauso agli ospiti che hanno partecipato a questo CEO Summit, che è un po' tradizione delle serate dedicate agli awards. Io ringrazio Davide Passero, Massimiliano Caradonna, Tommaso Mansutti, Davide Celli, Ermanno Canali e buona serata, naturalmente ci vedremo più tardi. Grazie. Grazie.